Benvenuti al primo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di nordestmeteo.it Andiamo a vedere le immagini dal satellite. Possiamo notare una vasta area nuvolosa che dal medio atlantico si spinge verso l'Europa centro-settentrionale. Nel contempo, dell'aria fredda giunge dalle zone polari verso il medio atlantico. Sulle nostre regioni, della nuvolosità per il momento bassa che non reca precipitazione. La carta di previsione per domani, 13 novembre, circa metà giornata, vede una vasta area depressionaria centrata tra la Gran Bretagna e la penisola scandinava. Sulle nostre regioni giungono correnti miti e debolmente umide dai quadranti sud-occidentali. L'anticiclone atlantico si spinge fin verso l'Agroenlandia con un promontorio. La situazione alle medie quote, a circa 1450 metri sulle nostre regioni, si registrano 7-8 gradi centigradi. Quindi ancora una situazione molto mite per la stagione. Possiamo notare l'aria fredda che dalle zone polari si spinge fino al medio atlantico. La previsione per sabato, 13 novembre, indica un aumento delle nubi con possibilità di qualche debole piovasco sulle zone orientali. La previsione grafica si riferisce al pomeriggio. Le temperature saranno stazionarie o in leggero aumento. Per domenica, 14 novembre, ci saranno la presenza di nubi, foschie e nebbie con possibili locali piovaschi o piovigini. Temperature stazionarie con valori pomeridiani compresi in pianura tra 13 e 18 gradi circa, anche se saranno possibili locali diminuzioni a causa delle nebbie. La grafica si riferisce sempre al pomeriggio. Tramite gli spaghetti ensemble andiamo a vedere la tendenza per i prossimi giorni. Si parte da una situazione molto mite in quota. Questi sono riferiti a 1500 metri circa. Dal 15 novembre ci sarà un deciso calo fino a riportarsi sotto le medie della stagione. In concomitanza del calo possiamo notare un aumento della precipitazione. Per il momento è tutto. Grazie. Previsioni a cura di Aiello Giuseppe. Grazie. Grazie.